Chi ha redditi più alti paga di più, diamo un aiuto alle imprese e teniamo conto delle categorie più deboli. Sono questi i concetti chiave espressi questa mattina dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e dall'assessore municipale al bilancio Eva Guardiani che hanno presentato agli organi di stampa il regolamento IUC, l'imposta unica comunale che unirà a tre tasse l'IMU, la Tari e la Tasi. È stato un lavoro abbastanza complicato proprio perché ci rendiamo conto della situazione in cui si vive in questo momento quindi obberare ulteriormente i cittadini di altre tasse non è semplice, non è assolutamente neanche un bel messaggio però il governo non eroga più ai comuni tutti i finanziamenti relativi all'IMU dell'abitazione principale quella che è stata esentata l'anno scorso. Naturalmente i servizi devono essere garantiti, i servizi che comunque il comune eroga regolarmente e quindi la Tasi è stata applicata. Quello che abbiamo cercato di tenere presente naturalmente è la condizione più disagiata delle persone quindi chi ha le categorie più deboli, quindi con nuclei familiari più numerosi o con redditi più bassi naturalmente tenendo conto anche della rendita catastale della casa, pagheranno con delle detrazioni importanti. attenzione è stata data sia, si vedrà nei regolamenti sia della Tasi ma anche della Tari in maniera prevalente per le attività industriali. Le richieste che Confindustria e anche le associazioni di categoria ci avevano richiesto sono state quasi tutte accolte. attenzione particolare anche ai detentori delle seconde case, abbiamo naturalmente stilato parecchie simulazioni naturalmente mi sento di dare sin da ora un ringraziamento agli uffici perché siccome abbiamo fatto un regolamento abbastanza complicato, complesso anche la modulistica che dovrà essere messa a disposizione ai cittadini sarà complessa da elaborare ma naturalmente sperando che sia la più semplice di semplice comprensione per i cittadini che naturalmente si troveranno dopo a redigerli per ottenere gli sgravi dovuti.